Aggressione in pieno centro di Battipaglia, mercoledì sera intorno alle ore 20. Un giovane, per cause ancora in corso di accertamento, è stato pestato da un gruppo di ragazzi mentre si trovava nei pressi di un bar situato in Via Italia. La gang ha colpito più volte il malcapitato, ferendolo alla testa e all'addome. Immediato l'arrivo sul posto della Polizia di Stato, allertata dai presenti, che ha avviato le indagini di rito per risalire ai responsabili dell'aggressione. Fuggiti alla vista delle volanti. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia dagli operatori del soccorso del 118. Per lui una prognosi di due settimane.